ok sono le 6 e mezza ci svegliamo e prepariamo ci prepariamo un po' partenza itinerario è l'acqua del monte forcellina temperatura siamo sui meno 3 corso è prevalentemente in ombra siamo esposti a est quindi anche la neve dovrebbe essere abbastanza mantenuta un po' partenza un po' partenza e la coperto dalle nubi è il gran zebù portless cenedale un po' partenza è 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